Rolex Oyster Perpetual 36, eleganza e innovazione nell'orologeria di alta gamma. L'Oyster Perpetual 36 mm è un esempio straordinario di raffinatezza e stile nell'ambito dell'alta orologeria. Questo modello presenta una cassa di 36 mm, che garantisce leggibilità, comfort e una presenza elegante al polso. L'Oyster Perpetual 36 mm è sinonimo di qualità e prestigio nel mondo dell'orologeria di alta gamma. Questo orologio attinge al meglio delle tecnologie sviluppate da Rolex. La tecnologia, Oyster, si riferisce alla famosa cassa ermeticamente sigillata, che è una delle innovazioni più rivoluzionarie nella storia degli orologi. Questa cassa protegge il movimento interno da elementi esterni come l'acqua e la polvere, garantendo che l'orologio funzioni in modo impeccabile in qualsiasi situazione. La tecnologia, Perpetual, d'altra parte, è un riferimento al movimento automatico, che sfrutta il movimento naturale del polso per alimentare l'orologio. Questo sistema garantisce precisione assoluta e affidabilità a lungo termine. Questo orologio è amato da coloro che cercano l'eccellenza in ogni aspetto della vita, che apprezzano il connubio tra tradizione e modernità che solo Rolex può offrire. Il 36 mm ha la capacità di adattarsi a una varietà di situazioni e il suo aspetto senza tempo lo rende un'icona di eleganza che non sarà mai superata dalle tendenze e dalle aspettative degli amanti dell'orologeria. Indossare un Oyster Perpetual 36 mm significa portare con sé una dichiarazione di stile e un impegno per la qualità. È un investimento in un orologio che è destinato a resistere alla prova del tempo e a diventare un'opera d'arte che continua a ispirare appassionati di orologi in tutto il mondo. In conclusione, l'Oyster Perpetual 36 mm è un simbolo di eleganza senza tempo, un'opera d'arte che unisce tradizione e innovazione in un pacchetto irresistibile. Indossare un Oyster Perpetual 36 mm significa portare con sé un pezzo di storia, eleganza e precisione svizzera. Con una connessione profonda con celebrità e personalità influenti, questo orologio rimane un'icona di stile, classe e prestigio. La sua eredità è un tributo all'artigianato svizzero e all'innovazione, e rappresenta un investimento nell'arte dell'orologeria.